Però insomma io voglio lavorare soprattutto nella logica di introdurre nel nostro paese tutto ciò che renderà possibile da parte di investitori esteri, di studenti, di lavoratori, di dire vengo volentieri in Italia perché oltre a essere il paese più bello del mondo, e questo già lo è, ma si possa stare in Italia senza bisogno di vivere ogni volta nell'incertezza, nella precarietà di regole, dell'applicazione delle regole. E insomma vorrei che il paese diventasse un paese nel quale ci dimentichiamo e togliamo dal vocabolario la parola scorciatoia, non so bene come si traduce in francese o in inglese, forse non c'è nemmeno, ma non è così bello come in italiano. La scorciatoia proprio in italiano è un valore, è un concetto quasi, insomma è un concetto culturale, insomma c'è molto di più che una semplice raccorciamento del terreno per arrivare a un obiettivo. Scorciatoia in Italia è un valore, ecco secondo me è un disvalore scorciatoia.